La prima esperienza di coppia, in quattro di coppia, si va alle Olimpiadi. Prima esperienza di coppia è anche prima esperienza delle Olimpiadi, quindi doppio impegno e anche doppia emozione. Cosa rappresenta per te il quattro di coppia, una barca che ha visto tantissime volte l'Italia protagonista? Il quattro di coppia è la barca che vedi da piccolo, che ti fanno vedere nei video dei Cavaliari delle Acque, e quindi è un po' un punto di riferimento per il movimento del canottaggio italiano, ma anche per tutti i ragazzi che iniziano e sognano di andare alle Olimpiadi. Per di più siamo molto competitivi e quindi possiamo andare lì e giocarci le nostre carte. Vi giocherete le vostre carte, non vogliamo fare pronostici, la preparazione com'è andata? La preparazione è andata bene, dopo Monaco abbiamo trovato ancora più affiatamento assieme, che diciamo era quello che ci mancava e pensiamo di essere molto competitivi e poi sai, le Olimpiadi sono una gara a sé, quindi tutto può essere.